A nome di Italian Resuscitation Council vi do il benvenuto a questo quarto webinar che abbiamo organizzato, il terzo nello specifico nell'ambito dello sport. Infatti questo terzo appuntamento chiude la serie di webinar dedicati prima al soccorso in montagna, poi a quello su mare e laghi e adesso invece guarderemo un aspetto più ampio dell'ambiente sportivo andando a valutare, a sentire delle presentazioni riguardo il quadro normativo, poi gli ambienti sportivi un po' più particolari come il motociclismo, la maratona, il ciclismo su strada e anche poi alcune condizioni come il colpo di calore che possono avvenire durante gli sport all'aperto. Quindi ringrazio i moderatori che sono presenti oggi, tutti esperti del settore che stanno dedicando appunto il loro tempo a questo importante webinar e ringrazio anche i due moderatori che animeranno questa giornata. A questo punto vi ricordo tutti quanti anche che è appena iniziata la settimana viva, la settimana della rinnovazione cardiopolmonare e quindi è anche un piacere di avere un evento come questo, un webinar durante questa settimana particolare. Direi di non perdere altro tempo e lascio la parola ai due moderatori della giornata, il dottore Alberto Cucino, rianimatore presso l'ospedale di Trento e la dottoressa Aurora Maiocca, rianimatrice e ricercatrice presso l'Università di Milano. Prego e grazie ancora. Grazie Giuseppe, sono felice di co-moderare con Aurora questo terzo webinar che è il mio terzo webinar insieme a IRC. Oggi dedicheremo questo spazio appunto agli eventi sportivi che è un tema direi molto importante all'interno dell'arresto cardiaco, non tanto per il rischio assoluto, per non fare terrorismo, ma perché comunque l'incidenza di arresti cardiaci durante attività sportiva è significativa. stiamo parlando di circa un caso, ogni circa 100.000 persone, i numeri sono un po' variabili e soprattutto perché riguarda molto spesso atleti giovani o persone giovani in forma. Quindi non perdo altro tempo, ringrazio Aurora che condivide la moderazione con me. Introduco Vincenzo Castelli che è un medico internista e è presidente dell'associazione Giorgio Castelli che ci parlerà, introdurrà un po' l'argomento dell'arresto cardiaco nello sport e ci parlerà della normativa, delle possibilità e della entità di questo problema. A te Vincenzo. Grazie e buon pomeriggio a tutti. L'evento drammatico avvenuto negli ultimi campionati europei legato all'arresto cardiaco del calciatore Ericsson ha riportato il tema dell'arresto cardiaco al centro dell'attenzione, non solo dell'opinione pubblica ma anche degli addetti ai lavori. Il tema che mi è stato assegnato è quello del quadro normativo, l'entità del problema, ma io anticiperei l'entità del problema perché per chiarire meglio lo stato della situazione attuale e quello a cui faceva precedentemente cenno Alberto relativamente alla frequenza, all'incidenza dell'evento. Nel 2012 abbiamo pubblicato questo lavoro sulla cardiologia dello sport che riguardava un'indagine da noi condotta relativamente agli eventi che si erano registrati dal 2006 appunto al 2012 relativamente agli eventi morte cardiaca improvvisa in ambito sportivo. Da questi dati che sono stati tratti dal web, dalla conoscenza diretta o dalla stampa, diciamo così, ne è nato un lavoro abbastanza ampio che ha evidenziato alcuni aspetti peculiari del problema. Scusa Vincenzo, non riusciamo a vedere la presentazione. Che devo fare? Condivisione rosso. Chiudiamo questo. Allora. In basso c'è condividi schermo, share screen o... Allora. Allora, condivido schermo, la freccetta, eccola qua. Ok, vi vedete adesso? Sì. L'avete vista? Ok. Allora, vi dicevo, nel 2012 prende la luce questo lavoro che cerca di indagare quelle che sono i dati relativi alla morte cardiaca improvvisa. Non è un lavoro che ha delle grandissime pretese scientifiche, perché purtroppo non abbiamo dei dati certi, però, diciamo così, apre uno squarcio piuttosto ampio su quella che è l'entità del problema. Innanzitutto, il numero dei decessi che negli ultimi 15 anni sono arrivati a circa 1600. Non sono tutti gli eventi, perché chiaramente non si riesce a raccogliere tutto quello che succede sull'intero territorio nazionale, ma sicuramente è un dato provato, oggettivo, importante, che ci dice che ci sono circa un centinaio di morti in ambito sportivo ogni anno. Il fenomeno interessa prevalentemente gli sportivi amatoriali, infatti l'84% del campione è dedicato proprio alla morte cardiaca improvvisa che avviene negli sportivi amatoriali, che sono gli sportivi della gita in bicicletta la domenica, della partita a calcetto il venerdì sera e via dicendo. Mentre gli sportivi tesserati sono una fetta modesta e tra questi, ancora più piccola, veramente minimale, è la fetta che interessa gli atleti di élite, i top player. Si contano sulle dita di una mano, di una singola mano, quindi tre o quattro casi. Nell'ambito dei soggetti tesserati deceduti, ricordo che il tesserato è colui che pratica attività sportiva nell'ambito di una federazione, quindi è un'attività coordinata da una federazione sportiva. Sono soggetti sottoposti a visita medica prepartecipativa e vedete la differenza minima degli eventi che avvengono durante la gara, che sono avvenuti durante la gara. Il dato è aggiornato fino a settembre del 2021, quindi a pochi giorni fa, rispetto all'allenamento. È un dato importante questo qua perché poi vedremo che è stata varata nel 2013 la legge Balduzzi che proteggeva sostanzialmente con il defibrillatore solo le gare, quindi era veramente qualcosa di illogico che veniva portato avanti. Fortunatamente le cose sono cambiate e poi vedremo come. Quindi il 52% di eventi è avvenuto in gara contro il 48% in allenamento. Lo sport è più frequentemente coinvolto il calcio, a seguire il potismo, il ciclismo e via dicendo, ma praticamente nessun sport è libero dall'evento morte cardiaca improvviso. Ho trovato decessi avvenuti in gare di tamburello, in gare automobilistiche o di trial motociclistico e via dicendo. Questa diapositiva rappresenta il coefficiente di mortalità che è un indice che è stato ricavato confrontando il numero di decessi rispetto ai praticanti o ai tesserati stessi e da questo grafico si evince come il ciclismo sia lo sport tra virgolette più pericoloso e quello che ha il coefficiente di morti dal resto cardiaco più alto degli altri. In quest'altro grafico invece vediamo le fasce d'età che sono interessate dal fenomeno e variano a seconda degli sport. È interessante notare come, ad esempio, nel calcio l'età in cui si manifesta l'arresto cardiaco sia molto più precoce, il picco è tra i 10 e i 20 anni. E questo ci dà anche delle nozioni di fisiopatologia dell'arresto cardiaco, cioè come è avvenuto l'arresto cardiaco. Sappiamo che esiste il vallo dei 35 anni, per definizione sotto i 35 anni le morti sono quasi sempre legate a patologie aritmiche primitive, a displasia aritmogena del ventricolo destro, a anomalie di origine delle coronarie e via dicendo, mentre sopra i 35 anni la causa di queste morti, sempre in ambito sportivo, è generalmente appannaggio della coronaropatia aterosclerotica. Infatti vedete come nel ciclismo si muore soprattutto dopo i 50 anni, quindi il picco è tra i 50 e i 60, e si mantiene elevato anche nelle decadi successive. In una situazione intermedia si colloca il podismo, il footing, il jogging e via dicendo. Una cosa interessante è raffrontare, proprio per dire come lo sport possa essere il trigger, l'innesco della morte cardiaca sportiva, senza per questo ovviamente dare colpe allo sport, perché sappiamo tutti che lo sport fa bene, lo sport va fatto, ma va fatto in sicurezza e va fatto soprattutto in soggetti che hanno un cuore che può permettersi di subire l'attività sportiva. Vedete che la media dei decessi nei mesi di marzo-aprile del decennio 2010-2019 è stato pari a 25, cioè quei due mesi morivano mediamente 25 persone. Nei mesi del lockdown scorso, di marzo-aprile 2020, noi abbiamo registrato solo due decessi, erano due potisti che erano usciti a fare la sgambata giornaliera e sono purtroppo deceduti durante questa attività. Questo dato contrasta con quello che è successo dal primo maggio 2021, quando con il decreto riapertura è stata riconsentita l'attività sportiva. Pensate, in due mesi, dal primo maggio al 30 giugno ci sono stati sei decessi di persone che giocavano al calcetto con un'età media molto bassa, 38 anni, probabilmente soggetti che avevano avuto un decondizionamento sportivo, non erano più allenati, non hanno fatto più sport e come si sono riaperte le attività, sono andati a fare quello che facevano precedentemente senza particolare attenzione. Cosa possiamo fare per gestire, tra virgolette, un fenomeno di questo genere? Intanto, ovviamente, in prevenzione privaria, l'importanza della visita prepartecipativa, quindi visita di qualità che consente di intercettare gran parte delle forme patologiche che possono dare origine all'arresto cardiaco durante la pratica sportiva. Ma nel dettaglio, legata proprio all'arresto cardiaco, creare innanzitutto un registro nazionale dei decessi da cause cardiovascolari, che non esiste, o per meglio dire esiste solo nella regione Veneto, da oltre 30 anni, con una messe di dati veramente importante, che consente anche di tirar fuori delle indicazioni, di tirar fuori dei lavori. Non a caso il gruppo di Padova, che si occupa proprio della morte cardiaca in ambito sportivo, è uno dei più importanti al mondo da questo punto di vista. Creare poi una sottosezione proprio dedicata alla morte cardiaca improvvisa, in ambito sportivo, in cui si ricerchino tutta una serie di informazioni per capire gli eventi, per capire le modalità, per capire lo sport, per capire anche la qualità del soccorso che è stato prestato. Creare poi degli hub di eccellenza dove viene fatto riscontro diagnostico e le eventuali indagini molecolari negli eventi che hanno colpito soggetti di età inferiore a 35 anni. Sappiamo che queste sono situazioni spesso legate a familiarità del problema e quindi in questo modo si fa anche prevenzione sugli altri membri familiari. Il problema del hub di eccellenza è un problema grosso, perché spesso questi cuori vanno a finire in anatomie patologiche che non hanno l'esperienza diagnostica, non hanno i mezzi per trovare delle cause di morte cardiaca improvvisa che alle volte possono essere molto subdole. Ovviamente questo è il campo nostro, l'implementazione dei progetti PAD in ambito sportivo, ma farli vivere realmente, esercitare un controllo. Purtroppo con il lockdown io ho notato, e penso l'avrete notato pure voi, tutta una serie di situazioni in cui si trovano dei fibrillatori in impianti sportivi con piastre scadute, batterie esauste e via dicendo. Quindi da questo punto di vista si tratta un attimino di ricompattare, di dare un messaggio chiaro a chi fa progetti PAD e li segue in ambito proprio delle attività sportive. Questo discorso dell'implementazione mi dà il hub per parlare anche della qualità del soccorso. Negli anni Ottanta si è passati dalla modalità scoop and run, cioè raccoglie e corri in ospedale, alla stay and play, rimani nella sede dell'evento, stabilizza la vittima e poi porta in ospedale. Diciamo che questa modalità sicuramente è dato i migliori effetti. Questa è una pubblicazione del 2020 su JAMA, addirittura quasi 44.000 pazienti valutati e sarà valutata la sopravvivenza all'arresto cardiaco se trasportato direttamente in ospedale o se è rianimato in loco. Quindi lì vedete che la sopravvivenza passa dal 3,8% al 12,6% di soggetti rianimati in loco. Ma anche poi l'outcome neurologico è decisamente migliore, dal 2,9% al 7,1%. Quindi chiaramente dobbiamo rianimare, ma con una ripresa neurologica la più possibile favorevole. Si è cominciato a parlare di azione di rianimazione cardiopolmonare a bordo campo in America all'inizio degli anni Ottanta. Questo è un lavoro, credo uno dei primi lavori di Francis Feld, che è un trainer di atletica, ma è anche un paramedico, il quale si è addestrato ulteriormente alla gestione degli eventi in campo e ha pubblicato questo articolo. Quindi siamo agli anni 90. Poi il processo ha preso sempre più piede, soprattutto nel mondo anglosassone, soprattutto negli Stati Uniti, e tanto da consentire e dimostrare come un soccorso, un campo precoce fatto dagli astanti, che possono essere gli allenatori, possono essere i preparatori, il team medico quando c'è, salva realmente le vite. Questo è un lavoro di Barry Meron pubblicato nel 2013, in cui vediamo questa curva che parte dal 1975, quando la sopravvivenza non arrivava al 10%, e arriva al 2012, anno in cui la sopravvivenza sfiora il 60% degli eventi avvenuti in campo. Qui si tratta della commozio cordis, cioè dell'arresto per rio indotto dal colpo violento nella regione anteriore del torace, riguarda molto spesso soggetti adolescenti i quali hanno una parete muscolare ancora non del tutto formata, ebbene qui si arriva al 60%. Pensate che in America hanno un registro per la commozio cordis addirittura, forse perché lì l'evento è molto più frequente rispetto che da noi a seguito della tipologia di sport che viene praticata negli States. Già nel 2015 anche l'European Resuscitation Council, nella sezione dedicata alle circostanze particolari del resto cardiaco, dettava i termini con cui doveva essere gestito l'arresto cardiaco, e quindi poche cose ma chiarissime che hanno una validità estrema e che devono servire a noi oggi per divulgare questo concetto in ambito sportivo. Quindi se un atleta collassa senza aver subito alcun trauma, con ogni probabilità è affetto da un resto cardiaco. Vanno subito valutate lo stato di coscienza e la respirazione, e se non ci sono tutte e due siamo di fronte all'arresto cardiaco. Se abbiamo un defibrillatore utilizziamolo e queste manovre possono essere svolte, come dicevo prima, dagli stessi atleti, dagli accompagnatori, dal team medico, con ottimi risultati. La FIFA negli ultimi anni si è interessata al problema e sicuramente lo farà ancora di più dopo l'evento Ericsson. Questo è un lavoro del 2020 a cui abbiamo dato anche un nostro contributo e un censimento in 67 paesi del mondo degli eventi di arresto cardiaco venuti nell'ambito del calcio. Le cose si stanno muovendo, tanto che la FIFA ha iniziato a divulgare delle clip in cui appunto si semplifica quella che è il riconoscimento e la gestione di arresto cardiaco. La stessa FIGC, con cui stiamo attualmente collaborando, elaborerà un protocollo per l'intervento precoce in campo del soccorso in caso di arresto cardiaco. Una novità potrebbe essere rappresentata dai segnali convenzionali che l'arbitro e il team medico possono farsi proprio per facilitare il più presto possibile l'ingresso e quindi il soccorso alla vittima in arresto cardiaco. Altro problema rappresenta la gestione delle vie aeree. Nel caso Ericsson è stata grandemente enfatizzata l'azione del capitano della Danimarca che ha letteralmente salvato la vittima perché gli ha tirato fuori la lingua evitando il soffocamento. Allora noi sappiamo tutti quanti che questa è una manovra assolutamente da non fare. Purtroppo ha avuto un'enfasi mediatica molto molto grande e quindi ci si troverà a combattere con questa situazione purtroppo tante altre volte. Anche qui la FIFA ha preso la sua posizione e vedete nell'ultima figurina in basso indicata dalla X si vede il soccorritore che mette le mani nella bocca della vittima e chiaramente il vigniego assoluto nel farlo. Passando rapidamente alla parte delle leggi ci muoviamo sulla base della legge del 2001, del 3 aprile che consentiva al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardiopulmonare e di utilizzare il defibrillatore semiautomatico. Nell'aprile del 2013 a seguito della spinta emozionale legata alla morte di Pier Mario Morosini avvenuta nel campo di Pescara veniva proposto il decreto ministeriale che sanciva la dotazione e l'impiego da parte delle società sportive sia professionistiche che dilettantistiche di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi a salvavita. Le società sportive professionistiche erano obbligate ad adeguarsi nell'arco di sei mesi. Per le dilettantistiche veniva proposta una proroga che in realtà è stata inizialmente di 30 mesi ma poi si è reiterata per altre tre proroghe quindi 1.423 giorni per la sua applicazione risultato nel periodo dal 2013 al 2017 quando è stata definitivamente approvata 610 decessi di persone in ambito sportivo. Mi domando e vi domando quante di queste avrebbero potuto essere salvate dalla presenza del defibrillatore. Nel decreto del 24 aprile del 2013 erano già molto chiare le linee guida e quindi posizionamento all'interno dell'impianto sportivo del defibrillatore semiautomatico che doveva essere di facile raggiungimento. La tipologia del DAE doveva essere marchiato CE. La manutenzione banale ma al tempo stesso molto importante quindi carica della batteria sotto istruzione di piastre e soprattutto individuazione di un referente responsabile che controlli l'efficienza dell'apparecchio e ovviamente la presenza di adeguata segnaletica all'interno dell'impianto. La comunicazione alla centrale operativa 112 o 118 della detenzione dell'apparecchio l'individuazione e formazione dei first responders per ovviamente ottemperare a quelli che erano gli obblighi di legge e la regolamentazione e la formazione BLSD che riguardava i vari centri formativi che hanno purtroppo ancora oggi delle differenze su base regionale. Finalmente a giugno del 2017 veniva pubblicata sulla gazzetta ufficiale la legge in cui venivano inseriti gli obblighi e quindi le associazioni e società sportive direttantiste che hanno l'obbligo di accertare prima dell'inizio delle gare la presenza del defibrillatore all'interno dell'impianto sportivo e verificare la regolare manutenzione e funzionamento dello stesso e assicurarsi che durante le gare ritorniamo a questo concetto ascluso della sola cardioprotezione della gara e non dell'allenamento la presenza di una persona debitamente formata che assistesse all'evento sportivo. Nell'articolo 3 venivano definiti gli inadempimenti dell'obbligo con delle sanzioni che sono sostanzialmente solo di tipo sportivo quindi se manca il defibrillatore semi-automatico determina l'impossibilità di svolgere la gara l'attività per cui la squadra la società ospitante ha la partita persa a tavolino di fatto non c'è nessun ente che controlla né chi sanziona ma chiaramente nella malaugurata ipotesi che dovesse verificarsi l'evento arresto cardiaco ci sono conseguenze penali ovviamente determinate dal fatto che c'è una legge dello Stato che obbliga detenzione perfetto funzionamento del defibrillatore e persona in grado di saperlo far funzionare nel 2018 veniva pubblicata una nota esplicativa dal Ministero della Salute nel quale sostanzialmente si sanciva l'obbligo di eseguire un retraining ogni due anni motivato dagli eventuali aggiornamenti che potevano derivare dalle linee guida rinnovate periodicamente e quindi il termine di due anni veniva considerato congro per un corretto riaddestramento sono alla fine nel agosto del 2021 nuova legge che rivisita sostanzialmente la 2001 e qui si parla programma povennare per la diffusione e utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici ed automatici esterni quindi viene introdotta per la prima volta la problematica del secondo me del defibrillatore automatico quindi poi potrebbe essere questo oggetto anche di argomento di discussione successiva voi sapete che in vari paesi del mondo Stati Uniti paesi anglosassi e via dicendo il defibrillatore che si trova in giro è generalmente un defibrillatore automatico in Italia sarà scelta la via del semiautomatico questo che vuol dire? vuol dire che nel futuro avremo solo automatici e abbandoneremo i semiautomatici? Non lo so però questo è un po' una novità rispetto al al passato una modifica importante è quella che si legge nel nel comma 1 in cui in assenza di personale sanitario o non sanitario formato nel caso di sospetto arresto cardio è comunque consentito l'uso del defibrillatore semiautomatico automatico anche a chi non sia in possesso dei requisiti il quale per esempio può essere guidato dall'operatore di centrale 112-118 e in questi soggetti si applica l'articolo 54 del codice penale che sostanzialmente depenalizza eventuali danni arrecati dal soggetto che interviene in queste condizioni in quanto lo ritiene non punibile a tal proposito mi è giunta notizia chiedo conferma a tutti voi che un'ASL del 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 Veneto abbia detto che siccome lo poteva usare anche la persona non non addestrata non era più necessario l'addestramento alle manovre di rianimiazione cardiopolmonare utilizzo del defibrillatore e al conseguente diciamo conseguimento del del prevetto di utilizzatore da ultimo e chiudo finalmente è stato inserito che i defibrillatori semiautomatici devono essere presenti e ci deve essere il la persona che è in grado di utilizzarlo sia nelle competizioni e negli allenamenti questo grazie anche alla spinta che è stata fornita in questi anni per eliminare quella che era realmente una idiozia vi ringrazio per l'ascolto e vi saluto e attendo le altre relazioni con molto interesse grazie mille Vincenzo Castelli per questo panoramica sicuramente molto importante sulla legislazione in termini di sicurezza per lo sport per quanto riguarda gli eventi che stiamo discutendo appunto oggi direi che le domande le lasciamo alla fine della presentazione e quindi andiamo avanti con il prossimo relatore che è Lorenzo Mohamed che è un infermiere specialista di area critica dell'Ausl Romagna lavora nel pronto soccorso di Rimini e ci parlerà di una tematica molto molto calda come le gare in circuito e motociclismo e vediamo Lorenzo come ci guiderà attraverso la problematica arresto cardiaco nelle gare in motociclismo grazie Aurora è una bella responsabilità prendere la parola dopo il dottor Castelli ma cercherò di tenere alto il livello allora condividiamo lo schermo un attimo ecco qua parleremo in questa breve relazione del soccorso nelle circostanze particolari sportive nelle gare di motociclismo è necessario chiaramente cominciare come siamo abituati a fare da superitori personale sanitario addestrato a fare soccorso parlando di sicurezza la sicurezza è chiaramente di primaria importanza anche nel contesto di motociclismo ma chiaramente oltre a essere la prima valutazione da fare riveste ancora di più se possibile una maggiore importanza dal momento che il contesto del circuito motociclistico è assolutamente esposto ad un alto rischio oltre che ad un'alta criticità clinica del paziente pertanto è importante che ci sia una grande sinergia tra gli attori del servizio di soccorso dedicato nei circuiti di motociclismo che sono i medical team sulla scena i responsabili del servizio medico nelle direzioni gara e i track marshal e l'antincendio e quant'altro chiunque sia comunque coinvolto nella nella catena del soccorso in questo contesto in particolare va detto che il tempo di intervento è molto molto ristretto per questo è importante la sinergia con in particolare la direzione gara in quanto talvolta è necessario intervenire in un soccorso ed evacuare il paziente dal circuito per metterlo in sicurezza e per fare le successive valutazioni in tempi che sono intorno ai due minuti due minuti e mezzo quindi la sicurezza deve essere garantita attraverso l'osservazione delle telecamere dei vari circuiti che consentono di vedere la posizione dei singoli motociclisti per cui a maggior ragione l'intervento durante la gara comunque durante l'attività di gara deve essere veramente ben studiato anche dal punto di vista della sicurezza non ci dimentichiamo anche i fattori di stress i fattori di stress nello specifico in particolare nelle gare di alto livello sono sicuramente l'aspetto mediatico che possa avere il soccorritore o professionista coinvolto in quanto si ritrova a dover lavorare comunque sotto la normale pressione in cui si trova ma con l'aggiunta del telecamere fotografi e quant'altro che sicuramente possono inficiare in maniera negativa sulla valutazione della sicurezza che il soccorritore può fare parlando invece dell'epidemiologia del trauma scusate del trauma nelle gare motociclistiche possiamo fortunatamente dire che non ci sono frequenti lesioni molto gravi arresti cardiaci o morti infatti più frequentemente gli studi ci dicono che la tipologia di lesioni a cui soggiace il motociclista che cade anche se di elite sia una lesione a carico delle estremità e in particolare fratture a carico delle estremità inoltre uno studio del 2019 che ha coinvolto 728 crash avvenuti tra il 2007 e il 2013 nel campionato tedesco di motociclismo ha riscontrato una non correlazione tra la tipologia di caduta e poi la successiva lesione che ne consegue pertanto possiamo dire che la valutazione che dobbiamo fare in caso di intervento su un motociclista anche se professionista in circuito deve prescindere un pochino dalla dinamica che vediamo sul momento dobbiamo fare una valutazione comunque approfondita e ordinaria come faremmo sulla strada anche se possiamo avere già un orientamento sulle tipologie di lesioni che possiamo vedere in quanto abbiamo magari visto con i nostri occhi la caduta e il conseguente il conseguente trauma più avanti vi parlerò di uno studio sui segni vitali a margine di questo studio è stato riscontrato anche che contrariamente a quanto ho detto dallo studio precedentemente citato pare esistere una correlazione tra la tipologia di caduta e la lesione conseguente qualora doveste incontrare magari leggere quell'articolo a mio avviso e anche sulla base dei dati disponibili va mantenuto valido quanto ho detto prima cioè la non relazione tra la tipologia di caduta e i conseguenti traumi in quanto lo studio sui segni vitali è stato effettuato solo su 104 crash avvenuti sempre nello stesso circunto quindi questo potrebbe essere un limite per quanto riguarda questo aspetto dello studio per quanto riguarda invece l'organizzazione dei servizi medici nei circuiti motociclistici va detto che in particolare nelle gare di rilevanza internazionale ogni curva del circuito va presenziata da un team medico possibilmente con almeno un professionista e comunque costituito da almeno due persone chiaramente infermieri e medici collaborano tra di loro e collaborano anche con i soccorritori che sono parte integrante del team di soccorso ma possono esistere diverse composizioni di team all'interno di un circuito partendo dal più avanzato costituito da medico infermiere e soccorritore o soccorritori a seconda del contesto e della tipologia di circuito arrivare fino al team costituito da soli due soccorritori questo dipende molto dalla categoria di gara dalla tipologia di circuito e dal numero di partecipanti alla competizione inoltre non ci dimentichiamo dei centri medici dei medical center che sono comunque disponibili nei circuiti internazionali e che hanno sono dotati comunque oltre dell'emergency room per la stabilizzazione per la stabilizzazione dei pazienti più critici sono dotati anche del servizio di radiologia con la possibilità di effettuare esami radiologici di primo livello o in alcuni casi anche di esami radiologici di secondo livello andando avanti parliamo più specificamente dell'intervento dei team medici in un contesto di circuito ricordando sempre il nostro dogma che è la sicurezza che è un processo dinamico in particolare in un tipo di soccorso così specifico e risulta poi importante fare una immediata valutazione con un abc primario in quanto questo discerne sulla tipologia di soccorso che i professionisti devono fare mi spiego meglio essendo la pista una potenzialmente una zona esposta a rischi per i soccorritori e per il per il fortunato stesso se l'abc primario è conservata quindi non è compromesso è opportuna specialmente questo durante le gare non le qualifico le prove libere ma comunque è opportuno una strategia di iniziale scoop and run quindi il trasporto del paziente anche solo spesso a pochi metri di distanza dalla pista per fare le successive valutazioni in sicurezza versus uno stay in play nel caso di un paziente con un abc primario compromesso che di conseguenza ha bisogno di un soccorso avanzato immediato a maggior ragione le comunicazioni diventano un fattore critico nello specifico di questi di questo tipo di soccorsi in quanto è il team medico che raggiunge per primo il motociclista il pilota che poi dà le condizioni e decide se il paziente è possibile è possibile trattare il paziente con uno scupper run oppure è necessario trattarli immediatamente facendo così sospendere le attività di pista immediatamente diversamente se si opta per una strategia scupper run il tempo generalmente specialmente nelle gare è quello in cui il gruppo di motociclisti pensando proprio alle gare stesse non alle qualifiche o alle prove libere pensando alle gare il tempo che i soccoritori hanno per evacuare il paziente è all'incirca due minuti due minuti e trenta per evacuarlo in sicurezza nel tempo in cui tutto il gruppo di motociclisti compie un giro della pista quindi l'aspetto sicurezza è veramente veramente importante ecco lo studio che vi citavo poco fa è significativo questo studio pubblicato recentemente proprio quest'anno su sports medicine è uno studio osservazionale che ha indagato sul valore clinico dei segni vitali e delle valutazioni fatte nell'immediato in caso di trauma in un circuito motociclistico infatti il risultato di questi studi di questo studio è che i parametri vitali e le valutazioni cliniche che vengono fatte dai primissimi soccorritori proprio per l'eccessiva tempestività passatemi passatemi il concetto per l'eccessiva tempestività di intervento abbiamo visto che interveniamo nei primi a volte nel primo minuto nei primi due minuti dall'evento l'eccessiva tempestività nella raccolta dei dati comporta la necessità di rivalutare più frequentemente rispetto all'ordinario in cui siamo abituati i parametri vitali e rieffettuare determinate valutazioni cliniche in quanto queste possono essere inficiate dall'eccessiva tempestività in cui sono stati raccolti quindi troppo vicine al tempo zero del trauma questo però d'altro canto risulta essere un'ottima occasione per studiare la malattia trauma in quanto abbiamo nel contesto ordinario ci risulterebbe impossibile fare delle valutazioni o addirittura raccogliere dei parametri vitali subito dopo un evento traumatico in strada mi viene da pensare al motociclista che si procura un PNX per un trauma toracico avere siamo abituati ad avere dei dati che migliore delle ipotesi sono dopo 4, 5, 6, 8 minuti dall'evento in questo caso riusciremo ad avere un riscontro addirittura a volte in 50 60 secondi quindi un'ottima occasione per poter indagare e conoscere meglio il trauma stesso rimanendo sulla letteratura vi cito anche questo studio epidemiologico che è pubblicato sul Journal of Clinical Orthopedics and Trauma sempre quest'anno che ha coinvolto un ampio campione specificamente di motociclisti di elite quindi MotoGP Moto2 Moto3 nel periodo in un periodo piuttosto lungo di circa 4 anni nel periodo 2013-2017 coinvolgendo 9082 crash avvenuti in tutti i circuiti del gruppo MotoGP in modo tale da osservare qualora ci fossero dei pattern specifici di traumi in questa specifica categoria di traumatizzati sorprendentemente risultato che l'incidenza delle lesioni nonostante il numero ampio di cadute non è infrequente è una caduta in categoria di elite di motociclismo l'incidenza di fratture chirurgiche o comunque lesioni significative è piuttosto bassa pertanto può essere utile un ulteriore approfondimento in merito non c'è moltissima letteratura specifica a riguardo concludo con l'oggetto della in particolare della settimana viva che è l'arresto cardiaco segnalando che ovviamente essendo disponibile in immediato un team di soccorso avanzato on scene sostanzialmente i tempi di intervento anche in caso di arresto cardiaco traumatico o non sono assolutamente minimi restiamo entro i soliti due minuti abbiamo immediatamente dei professionisti esperti esperti sulla scena oltre che defibrillatori e device necessari per il soccorso e non di meno in particolare negli eventi maggiori abbiamo disponibile addirittura un servizio di soccorso dedicato già operativo nelle pertinenze della pista che quindi questo garantisce un assoluto rispetto delle tempistiche o anzi addirittura garantisce delle tempistiche che in un contesto ordinario sarebbero impensabili inoltre come dicevamo anche prima riguardo delle possibilità che ci offre studiare i soccorsi che vengono fatti in questi contesti analizzare meglio i dati sui traumi ma anche sugli eventuali arresti cardiaci che avvengono in un contesto così controllato come quello delle gare motociclistiche sicuramente ci garantisce la possibilità di avere ulteriori evoluzioni anche nella modalità di soccorso specialistica in un contesto come questo ma anche ci potrebbe garantire di ottenere dei dati che possano essere utili anche per il contesto ordinario io con questo ho concluso vi lascio la bibliografia per quanto riguarda le domande direi che ci fermiamo dopo e vi ringrazio grazie Lorenzo colgo l'occasione per fare due piccole note tecniche cioè che ora siamo in diretta facebook come potete vedere la registrazione del webinar sarà interamente visibile poi sulla pagina sul sito web di IRC e sul canale youtube di IRC quindi avrete modo anche di rivedere le diapositive che saranno anche disponibili sempre sul sito di IRC detto questo detto questo è con grande piacere che introduco un'amica una collega specialista un medico specialista in medicina d'urgenza che lavora pronto soccorso alla SST Santi Paolo e Carlo a Milano istruttrice IRC che più ne ha chi ne metta Cristina Sorlini che ci parlerà appunto del colpo di calore potrebbe sembrare un pesce fuor d'acqua all'interno di una relazione sullo sport in realtà spero che non lo sia ho immaginato di introdurlo qui e speriamo di trovare le motivazioni grazie grazie Alberto mi sentite bene? sì sì perfetto grazie innanzitutto per l'invito molto interessanti le prime le prime presentazioni e giustamente Alberto dice speriamo che non sia un pesce fuor d'acqua in realtà non penso non lo sarà e vedremo anche perché ringrazio anche la regia perché ovviamente io ho avuto dei problemi nella condivisione dello schermo ma ho l'aiuto da casa validissimo parliamo appunto di colpo di calore colpo di calore che di fatto si divide in due grandi categorie quello classico che è quello che riguarda la popolazione che non ha degli ottimali meccanismi di dispersione del calore di compenso e quello relativo all'esercizio fisico presentazione le ha già fatte Alberto l'unica disclosure che faccio non ho conflitti di interessi se non che sto preparando la mia prima maratona che spero di correre l'anno prossimo a Londra per cui è meglio essere preparati e preparati anche su questa su questo aspetto molto specifico se andiamo alla prima slide perché dobbiamo parlare di colpo di calore indotto dall'esercizio fisico exertional heat stroke perché anche se non è un aspetto molto frequente è estremamente rilevante è la terza causa di morte dei giovani atleti ed è di fatto una patologia a tempo dipendente perché l'inizio del trattamento già in ambito extra ospedaliero riduce notevolmente sia la mortalità che le eventuali sequele a lungo termine come dicevamo riguarda atleti ma riguarda tutte quelle categorie di persone che vengono esposte ad ambienti caldi caldo-umidi e che vanno incontro a un esercizio muscolare molto significativo quindi pensiamo anche ai militari e a tutte quelle categorie di lavoratori che d'estate lavorano esposti ad alte temperature e che fanno un lavoro che richiede un certo impegno impegno fisico andando avanti vediamo come di fatto la definizione cioè i criteri diagnostici del colpo di calore indotto dall'esercizio siano di fatto semplici la prima caratteristica è avere una persona ipertermica vuol dire una temperatura corporea interna superiore ai 40 gradi centigradi questo cut off che è molto pratico non deve però indurci in errore alcuni testi dicono che la temperatura deve essere superiore ai 40,6 ma di fatto quello che deve rimanerci come criterio è che in un ambiente caldo o una persona o un atleta che presenta una temperatura elevata più elevata di quella che può essere la febbre normale è potenzialmente una persona che sta andando o che è andata incontro al colpo di calore quindi teniamo conto che è un cut off un po' labile e pensiamo anche che mentre i testi tradizionali ci dicevano che la persona si presenta di fatto con la cute asciutta quindi senza perspirazio esistono casi descritti di persone che affette da colpo di calore che invece si presentano con abbondante sudorazione quindi questo non deve essere un fattore limitante un criterio di esclusione l'altro aspetto caratteristico della patologia è il danno neurologico che può presentarsi in svariate maniere una delle presentazioni più precoci è la patologia la sintomatologia cerebellare per esempio la vertigine o il disequilibrio la nausea e il vomito che molto spesso vengono confusi con sintomatologia da disidratazione da ipotensione in realtà possono essere segno precoce di un colpo di calore così come tutti quei gradi di disfunzione cerebrale dal sopore al coma o anche la semplicemente il disorientamento gli stati di delirio di agitazione o anche delle crisi comiziali ma andando avanti cerchiamo di capire bene nella prossima slide quale è la definizione di ipertermia a differenza della febbre che è un meccanismo di fatto fisiologico indotto da uno stato infiammatorio dove c'è la liberazione di citochine che raggiungono l'ipotalamo che aumenta fisiologicamente la temperatura corporea basale l'ipertermia invece è un meccanismo patologico è la incapacità dell'organismo di disperdere il calore prodotto dall'organismo in maniera eccessiva per esempio per attività muscolare molto intensa e la caratteristica fondamentale dell'ipertermia è che essendo meccanismo patologico non fisiologico induce un danno d'organo nella prossima slide vediamo quali sono questi danni d'organo tutti fondamentalmente e il principale meccanismo per cui si sviluppa il danno d'organo è il danno ischemico l'atleta o la persona comunque esposta al calore è disidratato quindi ha un'ipovolemia assoluta non ha bevuto abbastanza e ha sudato molto ma ha anche un'ipovolemia relativa perché è di fatto molto vasodilatato la vasodilatazione è il primo meccanismo di compenso indotto nell'organismo per disperdere il calore si vasocostringe tutto il distretto viscerale il distretto splanchnico e il sangue viene deviato verso la cute per produrre sudore che poi evapora e raffredda il corpo questi due meccanismi di ipovolemia portano di fatto a un danno ischemico principalmente dicevamo al livello degli organi viscerali il fegato l'intestino e a livello anche cerebrale con l'ischemia o con l'ipoperfusione di fatto si sviluppa un danno da stress ossidativo e anche un danno cellulare diretto e conseguentemente anche tutta l'attivazione della coagulazione che porta a un quadro di coagulazione intravascolare disseminata e questo causa nel complesso una multi-organ failure cosa succede poi a livello cerebrale lo vediamo nella diapositiva successiva a livello cerebrale i danni principali come dicevamo coinvolgono il cervelletto e quindi tutti quei sintomi che molto sfumati possono essere confusi con un danno non neurologico e a livello corticale principalmente le parti della corteccia prefrontale che regolano poi tutta la parte anche di comportamento quindi qualsiasi grado di alterazione dello stato di coscienza alcune alcuni score o comunque criteri diagnostici includono ad esempio semplicemente un Glasgow coma scale inferiore al 14 come criterio diagnostico nella slide successiva vediamo che i meccanismi per cui si diciamo attua il danno neurologico sono gli stessi del danno agli organi a livello sistemico quindi ipoperfusione cerebrale che porta a un'alterazione della barriera ematoencefalica che regola strettamente sia l'afflusso di sangue che le sostanze che possono entrare all'interno del sistema nervoso centrale si crea un'iperaffluso un edema cerebrale su base vasogenica e questo è il primo meccanismo di insulto anche a livello cerebrale si creano dei danni microangiopatici e nei reperti di anatomia patologica su cadaveri si sono viste delle micro emorragie a livello leptomeningio e un danno proprio diretto alle cellule che porta alla denaturazione di proteine e questo mi ha fatto pensare quello che ho inserito nella slide successiva a quello che mi diceva il prof di biologia al mio primo anno di università il danno cellulare è un danno indotto da calore è un danno di fatto irreversibile e c'è un paradigma che recentemente è stato un po' sfatato perché in realtà ci sono dei meccanismi che possono aiutarci ma di fatto quando si bolle un uovo rimane bollito e non si può più tornare indietro questo perché perché i legami delle proteine che le tengono in una certa conformazione vengono rotti dall'eccessivo calore e nel momento in cui questi legami sono rotti non si riescono più a riportare allo stato originario e quindi il danno diretto sulle proteine cellulari di fatto è un danno irreversibile ed è il motivo per cui anche nelle persone che sopravvivono ci possono essere delle sequele a lungo termine andiamo avanti principi di trattamento ci sono molti articoli ne ho voluti citare due il primo è una un consensus statement del 2018 apparso su pre-hospital care la seconda è una review sistematica una meta-analisi apparsa nel 2020 su resuscitation che cosa ci dicono questi articoli nella prossima slide vediamo come di fatto il l'algoritmo di trattamento nella vittima con sospetto colpo di calore è quello tradizionale quindi innanzitutto S sicurezza della scena quindi evitare di mantenere un'esposizione al calore ma anche in questo caso alto sospetto clinico è una patologia rara ma dobbiamo pensarci il secondo step è sempre l'ABC valutazione dello stato di coscienza respiro e circolo se la persona è cosciente non dobbiamo fare delle manovre immediate salvavita ma possiamo passare alla valutazione di disability quindi un assessment accurato dello stato neurologico passando all'exposure a meno che non l'abbiamo già fatto prima nel circolo dobbiamo misurare la temperatura temperatura corporea interna che se superiore a 40 gradi ci deve spingere a iniziare il trattamento raffreddare prima e trasportare dopo nella prossima slide vediamo una piccola precisazione sulla temperatura corporea al suo monitoraggio dimentichiamoci i termometri esterni timpanici cutanei non vanno bene in ambiente extra ospedaliero il monitoraggio del paziente affetto da hip stroke va fatto con un monitoraggio della temperatura interna e la cosa più semplice da fare meno invasiva e che richiede meno presidi invasivi è la misurazione della temperatura a livello rettale che va monitorata in continuo e vediamo e vedremo anche nella prossima slide per quale motivo come dicevamo nel momento in cui facciamo diagnosi di exertional heat stroke il raffreddamento aggressivo va iniziato in extra ospedaliero il target è raggiungere una temperatura di circa 38 gradi nella prima mezz'ora e il monitoraggio della temperatura corporea deve essere continuativo perché noi dobbiamo evitare un overshooting cioè un raffreddamento eccessivo e di mandare il paziente e la persona la vittima in ipotermia ritardare l'inizio del raffreddamento perché pensiamo di non avere i metodi adeguati per raffreddarlo e che si possa fare meglio in ambiente intra ospedaliero in realtà aumenta sia la morbidità che la mortalità vediamo appunto quali sono i metodi principali di raffreddamento esiste una metodica che è il gold standard che si chiama cold water immersion quindi l'immersione del corpo fino a livello toracico in acqua fredda o acqua e ghiaccio questo può essere fatto in vasca può essere fatto in presidi ad hoc ma ovviamente richiede una certa preparazione e un certo strumentario che deve essere pronto ma questo non ci deve impedire di iniziare la terapia adeguata vediamo sulla destra delle alternative quello che si chiama tarp taco cioè il taco fatto con lacerata tarp è il telo impermeabile o lacerata se non abbiamo la vasca possiamo prendere un telo impermeabile posizionare la vittima all'interno del telo bagnarla con acqua fredda o con acqua e ghiaccio e avvolgerla nella slide successiva vediamo un altro metodo che è il raffreddamento per evaporazione che può essere fatto bagnando ripetutamente o bagnando in continuo la vittima e usando semplicemente un ventilatore cioè riproducendo quello che succede quando noi di fatto studiamo nella slide successiva vediamo brevemente in maniera molto concisa i dati i dati delle casistiche più grandi ci dicono che appunto il gold standard è l'immersione completa della vittima all'interno di una vasca con l'acqua la cold water immersion che è la più efficace e che raffredda con un rate di fino a 0,35 gradi minuto la persona immersa come dicevamo il target di temperatura è di circa 30 gradi da raggiungere nella prima mezz'ora ci raccomandano le consensus di interrompere il raffreddamento aggressivo verso i 38 gradi e mezzo per evitare appunto di eccedere nel raffreddamento insomma per andare al sodo e proseguendo nella presentazione diciamoci una cosa fondamentale nel soccorso di una persona di una paziente critico bisogna sempre avere dei piani un piano A che è la scelta principale quindi se possiamo facciamo raffreddamento ad immersione e a immersione nell'acqua e ghiaccio è la strategia più efficace se non ce l'abbiamo usiamo metodi alternativi telo impermeabile con acqua e ghiaccio oppure raffreddamento per evaporazione possiamo avere in aggiunta anche il posizionamento di ice packs a livello delle grandi arterie quindi inguine ascelle collo possiamo utilizzare i liquidi freddi soprattutto nei pazienti povolemici possiamo utilizzare un ossigeno non umidificato sia nel paziente intubato che nel paziente a respiro spontaneo il take home message principale è iniziare subito il raffreddamento solo in assenza di qualsiasi di questi presidi l'indicazione è quella di trasportare con il raffreddamento in corso tipicamente il liquido freddo e i pacchi di ghiaccio appunto a livello delle grandi arterie concludiamo nella prossima slide dicendo colpo di calore indotto dall'esercizio è una patologia con un'alta mortalità e morbidità ed è una patologia tempo dipendente dobbiamo essere pronti a pensarci perché la diagnosi può essere un po' sfumata un po' difficile ma sicuramente il nostro intervento precoce riduce la mortalità e pensiamo di fare quello che ci hanno detto i relatori precedenti in questo caso stay and play raffreddare prima di trasportare io ho concluso vi lascio anch'io la bibliografia domande alla fine e vi ringrazio molto per la per l'attenzione grazie mille bellissima presentazione e adesso passiamo al prossimo speaker che sono estremamente contenta di presentarvi Luca Carenzo è un rianimatore presso l'istituto clinico Humanitas lavora nella rianimazione generale appunto dell'istituto clinico Humanitas ed è stato fellow del Royal Hospital di Londra nonché tuttora collabora con l'istituto pre-hospital care della London Air Ambulance quindi uno speaker dal profilo assolutamente internazionale ciao Luca grazie di essere qui e ci parlerà di soccorso avanzato durante la maratona grazie mille io provvedo a condividere lo schermo e ad andare in full screen e questo dovrebbe dovreste vederlo giusto perfettamente perfetto allora parliamo un pochino di maratona maratona uno sport estremamente antico e questo fa sì che la mole di letteratura e di informazioni che noi abbiamo su questo sport siano ingenti è uno sport che ha appunto tutto un suo corpo di informazioni e come vedremo successivamente anche una serie di patologie che potremmo dire quasi specifiche perché io vi parlo di maratona ma per un interesse personale perché negli anni ho avuto l'occasione forse il privilegio di seguirne qualcuna in generale io sono un appassionato di grandi eventi ho fatto un master di disaster medicine tra le varie cose ed negli anni ho seguito da sempre seguo la maratona di Milano la maratona di Roma è una recente novità e sono stato anche la maratona di Abu Dhabi quindi l'esperienza di queste slide viene dalla gestione sanitaria principalmente di queste maratone queste sono tutte maratone cos'è una maratona? intanto è una corsa su strada parliamo di corsa su strada poi esistono maratone la maratona sulla sabbia piuttosto che quello che volete voi ma noi parliamo di corse su strada parliamo di eventi grandi eventi internazionali accreditati con World Athletics quindi con la federazione internazionale delle federazioni di atletica leggera che per esempio a Milano prima del covid portavano combinato tra chi faceva la maratona e chi faceva la staffetta quindi quattro persone che corrono all'incirca dieci chilometri ventimila partecipanti da gestire allora io non entro nel dettaglio in realtà questa vuole essere una chiacchierata alcune di queste slide sono molto dense alcune di queste slide sono solo delle fotografie non entrerò ovviamente nel dettaglio di unione di queste cose ma il primo pensiero è quello che la gestione sanitaria di un evento sportivo che è anche un evento maggiore un mass gathering non si fonda soltanto sulla risposta sanitaria agli atleti ma è molto più complesso come vedete da questo elenco io qua ho elencato ho fatto un brainstorming su tutti gli aspetti che vengono considerati durante la risposta all'evento maratona partendo da quello che è il piano sanitario l'insieme delle informazioni che contiene la risposta sanitaria che ovviamente è un obbligo di legge che in alcune regioni va depositato presso per esempio il 118 di riferimento i sanitari devono avere una relazione stretta con l'organizzazione non esiste arrivare il giorno della maratona con la propria valigetta da medico e fare il medico in quel contesto perché è un percorso con cui si arriva all'evento stesso per esempio si parla di organizzazione cosa vuol dire? vuol dire che oltre all'aspetto meramente clinico per esempio c'è tutto un aspetto di prevenzione l'aspetto di prevenzione si fa sia con l'educazione dei partecipanti ma anche per esempio ispezionando quelle che sono le disposizioni logistiche che fa l'organizzatore come per esempio l'adeguatezza dei punti di idratazione lo spugnaggio la quantità di acqua a disposizione e questo è fondamentale e si lega molto bene a quello che ha detto Cristina prima e ne parleremo più volte perché il colpo di calore quello che in italiano si chiama il colpo di calore è una patologia estremamente tipica in questo contesto prevenzione ed educazione dei partecipanti e su questo c'è ampia letteratura sul fatto che la prima cosa da fare è la prevenzione ed è l'informazione dei partecipanti e cioè dei runner ed l'informazione del personale non sanitario come in altri eventi su circuito chiamiamolo questo è un circuito di 40 chilometri non è strettamente un circuito ma concedetemi questo termine ogni per esempio chilometro sono presenti degli assistenti di gara che non sono dei sanitari ma sono coloro che si troveranno di fronte alle persone che stanno male e pertanto dovranno attivare in qualche modo i soccorsi la gestione sanitaria vera e propria sia da un punto di vista di coordinamento quindi la centrale operativa il dispatch delle risorse le comunicazioni le comunicazioni radio la liaison con gli ospedali ed la risposta sanitaria in termini di risorse che io qua chiamo pre-ospedalieri immaginiamo la maratona come un piccolo mondo all'interno della quale abbiamo delle risorse pre-ospedaliere e delle risorse ospedaliere che possono essere i posti medici avanzati il posto può essere uno solo o più a seconda della geografia dell'area ed eventuali piccoli posti di primo intervento queste sono un pochino tutte le considerazioni come vedete potremmo fare una giornata un workshop di due giorni soltanto per toccare tutti questi argomenti ma dal punto di vista clinico rimanendo nel mondo clinico che cosa ci interessa allora e rimanendo sull'assistenza allo sportivo al maratoneta perché in realtà come spesso accade in quelli che sono gli eventi di massa noi ci troviamo poi a fornire l'assistenza anche al personale di supporto quindi a coloro che lavorano a coloro che sono i cosiddetti fornitori che lavorano alla maratona e al pubblico se rimaniamo strettamente invece su quella che è l'assistenza al maratoneta andremo a vedere che ci sono alcune caratteristiche tipiche di questo evento sportivo intanto non si sfugge dalle valutazioni classiche la BC ma e queste non mi soffermo perché sono aspetti che conosciamo molto bene ma fondamentale è la valutazione in questi pazienti del status mentale quindi per esempio la presenza di confusione obnuinamento del sensorio poiché indicativo ad esempio di ipertermia perché non abbiamo non siamo ancora arrivati a misurargli la temperatura oppure per esempio di squilibri idroelettrolitici di cui ce n'è uno in particolare che è di rilievo la valutazione della temperatura e come ha detto Cristina la valutazione della temperatura è fondamentale e deve essere eseguita a livello di una temperatura centrale a seconda che il paziente sia cosciente o che il paziente sia incosciente nella nostra esperienza sia un paziente incosciente abbiamo le sonde esofagee o comunque retrofaringee morbide quelle che si usano nelle terapie intensive che si possono collegare ai monitor per avere una rapida valutazione di quella che è la temperatura del paziente e in questo contesto ripeto una temperatura di 40 e mezzo o 41 non è una situazione inusuale e poi la valutazione della glicemia ma soprattutto in determinati casi del sodio perché abbiamo parlato prima di colpo di calore con la lezione di Cristina perché è noto che il rischio di malore quale che esso sia che può andare dall'arresto cardiaco al fatto che la performance viene interrotta per esaurimento muscolare è correlato alla temperatura ambientale in cui si corre l'evento la temperatura che però non è la temperatura classica come la intendiamo noi ma è una temperatura leggermente più complessa che è quella che si chiama temperatura di bulbo umido che è una temperatura che tiene in conto non soltanto la temperatura dell'aria secca ma anche della presenza di umidità e di radiazione solare e come potete vedere da questa tabella notate che questa è una tabella specifica per la maratona quindi i dati che qua vediamo si riferiscono ai venti di running vedete che le temperature non sono poi così elevate perché dite ma ventotto gradi in realtà ventotto gradi di wet bulb globe temperature è una temperatura estrema noi iniziamo a preoccuparci per un evento quando la temperatura supera i ventiquattro gradi questo perché perché ci porta a parlare di patologie della maratona io qua le ho elencate anche qua non entrerò nel dettaglio di ognuna questo per darvi un'idea che la maratona ha una sua specificità a livello patologico ovviamente in un webinar dell'Italian Resuscitation Council non potevo menzionare l'arresto cardiaco questo non è specifico ma è la conseguenza più temibile e per la quale dobbiamo ovviamente essere preparati ma invece quali sono alcune delle patologie più più specifiche allora una è l'iponatremia associata all'esercizio chiaramente io ho detto prima maratona specifica ma stiamo parlando di tutte patologie endurance specifiche che vanno generalmente dalla mezza maratona agli eventi in su la peculiarità della maratona è chiaramente la ricerca della performance e quindi la spinta del corridore per stare entro un tempo mentre l'ultra maratona da 80 100 200 chilometri di solito non ha lo stesso tipo di spinta quindi l'iponatremia associata all'esercizio il colpo di calore quello che si chiama exertional heat stroke e le sue versioni intermedie heat stroke è una situazione life threatening è un'emergenza medica poi esistono una serie di patologie intermedie legate al calore quelle che qua e questi sono nomi che non ho inventato ma ho preso dalle linee guida sulla maratona le heat illness exercise associated muscle cramps e heat exhaustion che è semplicemente quando io non ce la faccio più per la temperatura ambientale esiste poi un'entità che si chiama exercise associated collapse che menzioneremo brevemente e poi esistono altre patologie mediche l'ipotermia l'ipoglicemia i crampi e le vesciche queste capiamoci subito sono i crampi e le vesciche sono il 95% di quello che noi vediamo ma essendo un pochino meno gravi diciamo e un pochino meno sexy se vogliamo le lasciamo un secondo da parte parliamo di quelle che sono diciamo le cose più severe ovviamente poi dobbiamo pensare che all'interno di un evento che è un mass gathering andremo a vedere anche persone che possono avere traumi ricordo per esempio ricordatevi che spesso le maratone sono in ambiente urbano per essere label world athletics devono essere su percorsi chiusi al traffico quindi tutto il percorso è chiuso al traffico però è capitato più di una volta che vi fossero dei contatti tra automobili e corridori nonostante la chiusura del percorso traumi e altre patologie a tempo dipendenti come ho già detto in runners ma anche in fornitori e in pubblico questo persone sanitarie in formati cosa vuol dire vuol dire che quando impieghiamo un sanitario che lavora una maratona deve avere una formazione specifica per conoscere questa entità perché non stiamo parlando di una diciamo una persona che si è formata ma non conosce specificamente questi argomenti potrebbe trovarsi spiazzato di fronte ad alcune presentazioni tipiche della maratona l'arresto cardiaco due parole incidenza vari studi lievi differenze 1-2% su 10.000 maratoneti sintomo più comune dolore toracico collasso molto specifico studi lo associano a un'infinità di cose l'associazione più tipica in questo caso è legata a coroneropatia ischemica o a condizioni cardiache ereditarie però come vedete è molto specifica la caratteristica che si associa all'arresto cardiaco iponatremia associata all'esercizio l'iponatremia lo sappiamo tutti è una riduzione del sodio osierico sotto i 35.000 equivalenti litro che può anche essere fatale non sotto i 135 ma può essere severa diventare sintomatica ad esempio sintomatica tra i 130 e i 125 sicuramente sintomatica sotto i 120 perché viene perché e questo accade soprattutto più si va sul dilettante rispetto al professionista perché vi è un eccessivo introito di liquidi è un'iponatremia diluzionale quasi pura in cui c'è un introito di fluidi ipotonici sostanzialmente acqua o sport di inchi ipotonici molto di più di quello che si sta sudando a questo si associa il fatto che lo sport determina un'appropriata secrezione di ADH secondaria e questo si associa al fatto che si urina poco i pazienti quindi tendono ad incrementare di peso fisicamente durante una maratona a prendere chili coloro che hanno una cattiva gestione dell'introito idrico la prevalenza come vedete su casistiche di Boston e Londra 12-13% con sintomatiche sotto l'1% per questo le linee guida raccomandano che su maratone diciamo diciamo in generale ma parliamo sicuramente nella mia esperienza è fondamentale avere a disposizione la possibilità di fare la sodiumia che generalmente facciamo con un venus blood gas con un emogas venoso con una macchina point of care le macchine point of care sono di fatto disponibili e di fatto quello che dicono le linee guida è che se tu non hai il sodio non devi fare correzione con soluzioni fisiologiche ma se hai un forte sospetto solo con soluzioni ipertoniche chiaramente pensate sempre che la terapia idrica è la prima scelta e perché il brodo perché le linee guida addirittura dicono che si possono utilizzare salty snacks quindi tipo snack salati o brodi salati oppure per il paziente che è incosciente e severamente iponatremico il bolo di ipertonica è l'unica terapia l'itstroke ne ha parlato ampiamente Cristina parliamo nella maratona parliamo di un evento che si verifica 1-2 ogni 10.000 la chiaramente temperatura dipendente qua per me il concetto chiave deve essere che il raffreddamento del paziente deve essere immediato è un po' come nello stroke e nell'arresto cardiaco time is brain più il cervello rimane ipertermico più siamo a rischio di esporre il paziente a livelli di reliquati a lungo termine e 40.5 per quanto a noi sembri strana come temperatura perché non è una cosa che incontriamo normalmente nella nostra diciamo attività clinica è invece una temperatura raggiungibilissima parliamo di 40 41 42 e sono persone che devono essere o immerse immediatamente nell'acqua ghiacciata o ricoperte di ghiaccio sono persone che presenteranno un sensore assolutamente alterato spesso vomito quindi a volte può essere necessaria anche una gestione avanzata delle via aeree nella nostra realtà italiana dove comunque ne abbiamo poche questi pazienti genericamente vanno sempre a fare una notte in terapia intensiva le linee guida ci parlano chiaramente del collasso e se io non entro in questo ma il collasso è un campo molto molto grande in cui potete notare facciamo un triage a seconda di quello che la mentazione la mentation lo stato del sensore sia normale piuttosto che alterato e andiamo a vedere tutto quello che abbiamo già detto prima che sia normale la temperatura il glucosio e il sodio e a seconda di questi casi andremo a fare delle correzioni l'EAC è l'exercise associated collapse qui la caratteristica invece è che questo è un collasso posturale che si verifica sempre al termine dell'attività è dovuto all'interruzione del ritorno venoso e alla scarso tono vascolare è una tipica entità post gara cioè colui che corre e collassa non ha un exercise associated collapse perché stava correndo e verosimilmente non ha avuto un blocco del ritorno venoso potrebbe averlo avuto ma per un'altra causa che non viene descritta come exercise associated collapse come avete visto sono tante e una di queste ha studi e pubblicazioni in merito quindi io vi ho fatto proprio una carrellata rapida adesso vi faccio vedere giusto qualche foto questo è un esempio di un tipico ospedale da campo che viene allestito per una major marathon questa è la maratona di Roma riconoscerete alle spalle i fori imperiali e la dimensione dell'ospedale da campo viene strutturata in base al numero di partecipanti questo è l'interno qua siamo a Roma questo è un ospedale da campo maratona di Milano di un paio di anni fa questo soltanto per far notare la presenza di un emogas analizzatore che è secondo me su questo tipo di eventi un gold standard ed in generale come vengono allestiti gli spazi i monitoraggi le barelle da campo ferrino e così via una peculiarità invece della maratona di Milano è stata la possibilità per diversi anni di seguito di avere a disposizione un'equipe ECLS questo per eventuali supporti extracorporei in caso di arresti cardiaci refrattari che si collega bene appunto all'aspetto di arresto cardiaco sulla scena e questo invece per farvi vedere come sono fatti fisicamente degli ice bath qua siamo ad Abu Dhabi questa è la zona ice bath aperta a tutti quindi i concorrenti possono immergersi quello che vedete sotto ovviamente è un saccone da 20-30 kg di ghiaccio nel caso di un'emergenza uno di questi è dedicato ed un'equipe si occuperà di raffreddare la persona incosciente capite bene che immergere un incosciente in acqua richiede un minimo di attenzione questo è accuratamente descritto all'interno delle linee guida però richiede un team quantomeno che presti attenzione perché la persona non deve non può scivolare dentro interamente chiaramente essendo incosciente un ringraziamento speciale a due persone con cui collaboro Federico che è il medical manager di IELP con cui organizziamo la risposta sanitaria e Paolo Emilio Adami che è il medical manager di World Athletics cioè la federazione delle federazioni mondiali di atletica che è una delle persone che scrive le linee guida con cui noi ci confrontiamo regolarmente per far sì che tutto diciamo che le nostre risposte sanitarie siano a livello internazionale grazie grazie ok sì grazie Luca per questa veramente interessantissima presentazione direi che ha fornito molti spunti che credo vadano ben al di là della maratona che affrono un po' molti spiragli e spazi di cui parlare riguardo un po' a molti sport ma spero che arrivino delle domande per confrontarci i prossimi minuti ora the last but not the least in conclusione a questa carrellata passo la parola a Fabio Volantè un altro collega anestesista e animatore che è medico della federazione italiana medicina sportiva e è responsabile medico della federazione italiana per Como e collabora col servizio anzi responsabile appunto il servizio ambulanza del giro d'Italia e quindi lascio la parola a Fabio grazie grazie mille che ci parlerà dopo aver parlato di motori di corse proseguiamo con il pedale perfetto vedete tutti correttamente sì perfettamente vi ringrazio tanto per avermi invitato a questa presentazione in cui ho trovato anche piacevolmente degli amici che ci conosciamo per quanto riguarda il mio argomento vi ringrazio molto è l'argomento che mi sta molto a cuore che insieme al muoto sportel ciclismo su strada per quanto riguarda il ciclismo su strada nei dati che abbiamo visto già anche prima dobbiamo differenziare la nostra epidemiologia principale la nostra epidemiologia principale è l'epidemiologia traumatica nella nostra casistica o quantomeno nella personale di 12 anni di attività ho il 97% di eventi trattati di tipo traumatico e solo il 3% di carattere medico per quanto riguarda gli eventi di emergenza per quanto riguarda invece le richieste di soccorso che non hanno un carattere di emergenza ma neppure di urgenza quindi patologie che possono essere classificate come dei codici verdi abbiamo un 80% di tipo traumatico e il restante 20% di natura medica non possiamo però esimerci anche dal trovare all'interno delle nostre richieste di soccorso e poi vedremo nei slide successive i motivi di questa cosa nel parlare di arresto cardiaco raro e casi eccezionali all'interno dell'affetto del ciclismo professionistico che però portano veramente alla ribalta tutta quella che è una tematica importante e suscitano anche nei media un grosso un grossa attenzione come nell'ultimo caso del giovane corridore belga che era appena passato professionista morto durante la Parigi Roubaix abbiamo visto prima alcuni dati della fondazione Castelli io ne ho un pochettino più vecchi li aggiornerò con quelli nuovi che abbiamo visto nella prima presentazione e collochiamo il ciclismo come potete vedere lo collochiamo all'interno della seconda causa degli sport come secondo posto degli sport più a rischio questo mi deve permettere di fare un discorso quindi legato sia al tipo di sport che viene svolto principalmente nella relazione studio di oggetto per esempio uno studio che abbiamo fatto su 20 anni di sport all'interno della Svizzera si è visto che il ciclismo non è al terzo non è al secondo posto ma per esempio è al primo posto e il calcio non è al primo posto ma è al sesto posto quindi su questa cosa qui dobbiamo vedere anche la realtà in cui ci troviamo e la rappresentazione la rappresentatività maggiore che abbiamo del dato legato soprattutto agli amatori e poi vedremo perché se dobbiamo pensare a cosa è la peculiarità che dobbiamo avere nella nostra gestione nell'assistenza sanitaria in un evento sportivo è la differenziazione nel nostro evento ciclismo su strada abbiamo due categorie di assistenza che sono totalmente diverse abbiamo i professionisti quindi persone che hanno una formazione una preparazione e senza farmi dire il loro lavoro lo fanno di mestiere e un numero soprattutto legato a questo tipo di assistenza che è molto minore duecento sono circa gli atleti che partono in una corta professionistica a differenza di tutta un'altra parte di diciamo di popolazione che sono gli amatori vestiti uguali ma totalmente diversi per quanto riguarda sia la preparazione in bicicletta quindi la possibilità di condurre il mezzo la capacità di condurla quindi aumento della casistica traumatica ma ahimè anche di tutta quella casistica legata che abbiamo visto nella prima presentazione di oggi legata a quell'incremento di mortalità tra i 50 e i 60 anni perché la prima causa di morte cardiaca improvvisa all'interno della popolazione che fa sport è la cardiopatia non professionista non agonista è la cardiopatia ischemica la cardiopatia ischemica si conforma principalmente a intorno ai 50 e 60 anni ed è per questo che nello sport ciclismo che è uno sport che recentemente è stato si inizia a praticare in età più giovanile ma è diciamo a discapito di una popolazione un pochettino più in là con l'età ritroviamo come prima causa di morte su quell'età sport correlata quando facciamo un'assistenza quando noi prepariamo un'assistenza in un evento ciclistico su strada la cosa che facciamo è ci preoccupiamo di quelli che sono i principi generali legati alla nostra assistenza quindi la prima cosa dobbiamo cercare di adeguare la risposta sanitaria alla tipologia del evento nel ciclismo abbiamo corse in linea che sono quelle che vengono così chiamate le corse di un giorno abbiamo corse in linea di professionisti quindi circa 200 atleti abbiamo corse in linea di amatori quindi le classiche gran fondo dove si arriva a 8000 atleti nella maratona delle Dolomiti abbiamo corse a cronometro abbiamo corse a tappe abbiamo corse che si sviluppano su 300 km come a Miano Sanremo abbiamo corse che si sviluppano per i primi 20 km 50 km in linea poi dopo entrano in un circuito come le gare mondiali quindi dobbiamo capire che gara stiamo andando a svolgere e che tipo di risposta dobbiamo dare soprattutto anche dove ci troviamo è totalmente diverso un arrivo a Milano rispetto in cima allo Zoncolano dobbiamo costruire un filtro per ospedaliero questa è la base il filtro per ospedaliero ci serve non solo per garantire quella che è l'assistenza sanitaria agli atleti stessi che hanno delle peculiarità particolari soprattutto nella parte professionistica perché per esempio hanno bisogno di alcuni accorgimenti alcuni esami per poterli far ripartire il giorno dopo quindi se io arrivo in cima allo stelvio il giorno dopo riparto da da Bormio devo permettermi anche di avere delle forme di radiologia mobile che mi consentano di fare tutte quelle indagini radiologiche che mi possono dire ok il corridore è fit to race posso rimandarlo è totalmente diverso che avere un accesso normale in un ospedale piuttosto che suturare il paziente piuttosto pazienti che hanno avuto il giorno prima una lussazione ridotta la lussazione e poi riparto filtro per ospedaliero che invece è differente in tutte le gare legate agli amatori quindi è un filtro più generale un filtro più legato al classico filtro dei mass gathering l'altra cosa che non è da meno come dice anche la legge stessa dobbiamo garantire l'assistenza al pubblico e a tutte le persone che a vario titolo si trovano nella manifestazione faccio un esempio il giro di Lombardia quest'anno no ma l'anno precedente scendeva dal muro di Sormano arrivava sul lago di Como e il tratto di strada quei 30 chilometri che dalla discesa del muro di Sormano fino all'arrivo a Como nel momento in cui la strada passava non c'era possibilità per nessun mezzo di soccorso di arrivare in quel punto quindi se la signora Maria in quel momento stava male a casa sua dovevamo essere noi stessi della corsa che davamo assistenza a quella persona stessa cosa succede quando si arriva in cima allo stelvio o qualsiasi altro arrivo in salita la strada viene chiusa quindi se qualchiasi persona sta male nel momento in cui la strada viene chiusa e stiamo parlando di due ore prima dell'evento siamo noi stessi che dobbiamo garantire l'assistenza a queste persone quindi le persone che a vario titolo si trovano coinvolte nelle manifestazioni all'interno giro d'Italia vi assicuro che sono veramente tante se ragioniamo in una forma un pochettino più specifica legata al diciamo al piano sanitario dobbiamo valutare il rischio dell'evento determinare quella che la risposta sanitaria specifica una volta determinato valutato il rischio e sì dobbiamo integrare il piano di sicurezza perché il piano di sicurezza di un grande evento sapete che non è solo sanitario ma si conforma all'interno di tantissimi altri piani tra cui quello per esempio dei vigili del fuoco della polizia e ahimè negli ultimi anni del covid tutto questo deve essere condiviso con gli enti esterni nelle manifestazioni tutti nel nostro caso gli enti esterni sono principalmente gli ospedali faccio l'esempio per poter dare delle fast track ai nostri atleti quindi se rivediamo un piano sanitario quando lo elaboriamo e quando cerchiamo di dare quella che è l'organizzazione del nostro evento la parte diciamo importante che dobbiamo capire è sia la valutazione definizione di risorse ma la nostra mappa operativa è abbastanza complessa pensate a una mappa operativa che coinvolge un percorso di 3200 km come il Giro d'Italia per farvi capire un po' vi ho portato queste immagini per farvi capire come avviene una dinamica di corsa questo è un evento che va avanti continua se un corridore cade non è che fermo la corsa io l'assistenza gliela devo dare mentre tutto lo show must go on cioè mentre tutto va avanti e l'assistenza come sapete non va data solamente ai corridori ma va data a tutto l'entourage che è presente all'interno del Giro ogni persona che vedete qui raffigurata ha dei compiti specifici senza dilungarmi oltre vediamo i compiti specifici scusate dietro lo slide i compiti specifici che abbiamo nel nostro caso sono legati a la salute di tutti questi corridori e come la garantiamo dietro al presidente di giuria abbiamo la macchina del medico la macchina del medico antecede la prima fila delle ammiraglie come vedete c'è una prima fila delle ammiraglie e successivamente la prima ambulanza questo perché perché questo ci permette di dare assistenza a tutti quei corridori che rimangono attardati e già normalmente se il gruppo è compatto non abbiamo fuga non abbiamo niente tra questa macchina e questa solo la fila delle ammiraglie ci permette un tempo di latenza di un minuto un minuto e mezzo che è poco ma vi assicuro che quando la corsa inizia a salire inizia magari a salire o a farsi un pochettino più dura perché le squadre vogliono portare avanti i capitani i meno forti ecco quelle magari un pochettino meno allenati iniziano ad andare indietro e quando vanno indietro non è che di sicuro arrivano qua e dicono va bene allora io mi ritiro assolutamente no e si fermano l'ammiraglio e prendi la borraccia e prendi il gel e passa la mantellina tutti questi alla lunga tutto questo serpentone tenete conto che si allunga e il tempo di arrivo medio tra la macchina e l'ambulanza solitamente di due minuti e mezzo tutta questa parte qua e quindi l'organizzazione del soccorso deve prevedere che questo mezzo oppure gli altri che stanno in fondo prima del del fine corsa quindi alla fine della seconda fila della miraglia la difficoltà del medico coordinatore che è la centrale di coordinamento è questa macchina che va avanti nulla di più e la difficoltà sta appunto nel capire e leggere la corsa e capire come disporre le ambulanze che in partenza le vedete belle unite ma già negli ultimi 40 chilometri di corsa quando le corse sono un pochettino più animate la distribuzione delle ambulanze è fondamentale c'è un altro punto che non è da poco capire le distanze di una corsa questo è un gruppo compatto qui la strada è chiusa immaginatevi di avere sempre un tratto di strada chiusa nelle corse professionistiche tra il primo e l'ultimo concorrente cosa che invece da tenere ben presente non è così nelle corse amatoriali in quanto il tempo che vi danno i comuni o le province o comunque le strade che vengono attraversate sono di circa 10-15 minuti massimo di chiusura e vi assicuro che parte una gara amatoriale i primi 20-30 minuti avete tutti dentro all'interno della parte chiusa della strada ma già dopo 20 minuti dei 1500 che sono partiti ne avete 500 che sono oltre la chiusura della strada e quindi a traffico aperto ed è una cosa da considerare perché nella fattispecie se la corsa poi si allunga per esempio ci sono delle fughe oppure rimangono indietro su oltre i 30 secondi non si può fare niente per regolamento ma successivamente se la corsa diventa più lunga tutto quello che avete visto prima di ammiraglie di persone che gli stanno dietro dell'assistenza sanitaria ok oltre al gruppo quindi oltre a svilupparlo dietro a queste persone in piccolo dovete svilupparlo anche dietro a questi altri perché come vedete si usano mezzi diversi qui per esempio si utilizza una moto una moto medica ma tutto quanto in piccolo deve comunque seguire tutto questo processo facciamo un esempio di un soccorso allora un corridore all'interno del centro gruppo cade cade fortunatamente a lato strada che è la cosa che è la cosa migliore la prima il primo mezzo che arriva è la macchina del medico quindi quella che vi ho detto essere dietro a questa macchina rossa che è il presidente di giuria si mette dietro il corridore fa da protezione fa un triage cerca di capire cosa è successo e nel caso in cui serva ferma la prima ambulanza che passa prima ambulanza che deve essere posizionata anteriormente perché la deve cercare il meno possibile di dar fastidio a tutta la parte di diciamo di gruppo di ammiraglie di macchina o di altri corridori che ci possono dietro di essere dietro che passano e non intralciare il percorso cosa fondamentale sono i regolatori quindi quelli che sono i sbandieratori che vedete che sono fonte fondamentale per la nostra sicurezza qui ho cercato di sintetizzarvi adesso invece il processo che deve essere attuato proprio per ogni singolo evento che abbiamo all'interno della corsa questa è una corsa normale un po' schematica abbiamo i corridori abbiamo le nostre ammiraglie la nostra macchina del medico e le ambulanze a seguito abbiamo una caduta quindi un corridore rimane attardato tutta questa parte qua ricordiamoci che sta andando procede più lentamente nella parte posteriore più velocemente nella testa ma sta andando avanti la velocità di porre un soccorso in questo momento è la valutazione da parte della prima macchina che si ferma dell'automedica nella valutare che cosa è successo e la necessità che ha il paziente perché quegli scenari possono essere diversi uno si rialzano e ripartono e quindi va riportato in gruppo cioè non è che noi lo riportiamo in gruppo perché chiama macchina lui deve rientrare in gruppo viceversa si ritira quindi il paziente il paziente l'atleta si ritira dalla corsa e o sale sul furgone di fine corsa oppure autonomamente con la bicicletta raggiunge i bus oppure abbiamo la necessità di medicalizzare il paziente quindi di dargli un'assistenza medica possiamo fare un'assistenza medica al traguardo e questo accade spesso nelle corse in linea quindi si cerca di portare il paziente poi nella zona arrivo dove sono presenti tutti i suoi bus e tutte le sue facility per poi ritornare a casa oppure una volta portato alla nostra diciamo clinica mobile necessiterà poi di essere portato in ospedale quindi bisogna pensare a predisporre anche questo tipo di attività oppure nei casi più gravi direttamente dal luogo dell'evento deve essere ospedalizzato il contesto il contesto è la cosa fondamentale quando cerchiamo di avere un'idea di che tipo di assistenza dobbiamo fare in una gara ciclistica come vi ho detto una corsa professionistica ha circa 200 atleti 200 atleti sono pochi rispetto a una gran fondo ma guardate il contesto che ha un giro d'Italia questi 200 atleti hanno 5.000 persone di pubblico hanno paesi interi che si fermano strade intere che con i vari 118 locali dobbiamo predisporre un'assistenza da questo lato della strada per esempio non arrivano mezzi di soccorso allora dobbiamo essere noi come organizzazione a predisporre dei mezzi di soccorso per le persone che a qualsiasi titolo si trovano all'interno di questa casa oppure facciamo altri esempi l'arrivo a Verona abbiamo un'arena intera oltre a tutta la città fuori e quindi bisogna predisporre anche tutto un sistema che preveda un'assistenza a queste persone oppure meglio ancora se volete in cima allo zoncoran se qua dentro abbiamo una persona che si sente male dobbiamo avere predisposto tutto un piano per dare un'assistenza ed evacuarlo da qui e siamo in cima alla montagna e poi tutte quelle che sono le condizioni particolari qui siamo arrivati in cima al terminillo in questo frangente mi ricordo che c'era una ragazza che ha avuto un attacco epilettico e da lì bisognava portarla giù faceva parte dell'organizzazione da lì andava portata giù e come capite in cima al terminillo con questo tempo non c'era la possibilità di far volare un elicottero sono tutte cose che devono essere assolutamente considerate e considerato anche il contesto come vi dicevo queste sono gare amatoriali come avete visto nelle corse nell'immagine prima 200 atleti e 5.000 persone di pubblico qui sulla maratona delle Donomiti avete 5.000 persone di 5.000 atleti e 4-5 persone di pubblico quindi è tutta una condizione diversa di approccio di garanzia di soccorso che dobbiamo dare ai nostri atleti in gara il fabbisogno di un evento ciclistico su strada rimane sempre l'organizzazione rimane sempre la capacità di capire e differenziare ogni evento da uno diverso dall'altro vi assicuro che in un giro d'Italia su 21 tappe se ne assomiglieranno 4 o 5 tutto il resto è una totale differenziazione su quello che devi predisporre può accadere spero di di essere stato chiaro se ci sono domande so che vanno fatte alla fine vorrevo ringraziare il colui che è stato il mio maestro all'interno di questo di questa disciplina che è il professor Tredici tutto terminato grazie mille Fabio bellissima presentazione e adesso magari partiamo con qualche domanda se abbiamo dal pubblico allora dal pubblico intanto io ho una curiosità per per Fabio sulle gare di ciclismo prima hai fatto vedere un'unità mobile di di soccorso e parlavi di anche tipologie di diagnostica che si possono fare sulla strada ecco se ci spieghi che cosa intendi nel senso uno può immaginare su una frattura di trovarsi di fronte alla clinica di una frattura ma che cosa può significare in un giro d'Italia avere una diagnostica allora la diagnostica è differenza sulle ambulanze sulle due ambulanze di animazione abbiamo la possibilità di fare una diagnostica fast quindi un ecografo che è collegabile al al telefono cellulare per intenderci e quello serve per una questione di urgenza di emergenza poi alle partenze e alle arrivi invece abbiamo una radiologia mobile che permette che dà la possibilità di fare una radiologia classica degli RX classici tutti i segmenti corporei e un ecografo più performante a lato di questo abbiamo delle convenzioni con dei centri radiologici locali quando ci sono partenze e arrivi per attacche risonanze magnetiche era questa la domanda giusto allora? sì 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 era questa sì 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 assolutamente chiaro e il vantaggio scusa così finisco nella mia curiosità il vantaggio di poter fare una radiografia per esempio al termine di una gara su un atleta in cui si sospetta una frattura costale il vantaggio è legato al fatto che loro vogliono ripartire c'è gente con fratture di bacino che ho visto piangere perché il giorno dopo gli si diceva che non poteva partire e al di là di questo tu pensa al contesto in cui ci troviamo mi ricordo per esempio a Cassino prima della salita di Cassino a una rotonda pioveva e sono caduti 70 corridori abbiamo dovuto fare una cosa come 60 visti 60 pazienti di cui a 20 abbiamo dovuto fare delle radiografie per escludere delle possibili fratture era impossibile pensare di portarli in ospedale questi pazienti ma al di là di questo che questi sono eventi rari abbiamo la possibilità agli atleti di fare delle indagini radiologiche quindi degli RX anche in posti un po' strani perché se arriviamo in cima allo stelvio glielo possiamo fare lì ora che portiamo l'atleta a Bormio per gli facciamo fare l'RX e l'RX negativo lo riportiamo in albergo questo è stato in giro dopo che si è fatta una tappa a 230 km con 6.000 metri di dislivello il giorno dopo la tappa finale in cui si può decidere la sua maglia rosa l'abbiamo tenuto in giro 4 ore solo per fare una lastra quindi è tutto è tutto strutturato per per loro ecco su questa cosa qua perfetto grazie mille anch'io una considerazione più che una domanda insomma notavo una differenza credo tra la presentazione di Lorenzo e ripensavo anche alle parole di Vincenzo Castelli all'inizio del webinar rispetto agli incidenti nelle partite da calcio dove tutto sommato stiamo parlando di circuiti o di campi quindi è tutto sotto gli occhi o più o meno è tutto raggiungibile addirittura alle volte troppo precocemente nei casi di trauma su una pista di motocross di moto gp di automobili per il ciclismo e per la maratona il contesto è veramente molto diverso cioè anche la ricognizione dell'incidente può essere un elemento anzi è forse l'elemento critico nel caso dell'arresto cardiaco dove il tempo diventa cruciale quali sono i sistemi una domanda per i due fuori circuito o parzialmente fuori circuito Luca e Fabio cioè quali sono i sistemi che abbiamo per ottimizzare al massimo la rapidità di intervento cioè la rapidità di riconoscimento dell'evento e quindi l'intervento non so se vai Fabio vai tu Luca finito io ma io penso che la difficoltà vera se l'abbia Fabio perché comunque la maratona è un ambiente relativamente controllato dove abbiamo un marshal ogni chilometro per dire quindi comunque 42 marshal che controllano a vista i corridori a questo si associa un numero variabile di ambulanze di base io vi parlo di un modello che conosco questa non è necessariamente un regolamento l'obiettivo è quello di avere ambulanze strategicamente posizionate e le ambulanze di base sono tutte dotate di ovviamente defibrillatore semiautomatico e personale certificato BLS a questo si associa che in teoria i marshal e gli assistenti di gara che spesso provengono dal mondo della protezione civile da un punto di vista normativo dovrebbero quantomeno avere un BLS il defibrillatore arriverà con l'ambulanza più vicina noi utilizziamo per esempio sui 41 chilometri di solito circa 12 ambulanze di base che però non significa che sono 12 in assoluto ma sono 12 che vengono genericamente spostate mano a mano che la gara prosegue e non spostate in senso dal chilometro 1 al chilometro 2 ma per esempio l'ambulanza del chilometro 1 va al chilometro 33 l'ambulanza del chilometro 2 va al chilometro 25 tutto dipende dalla geografia del circuito di solito si fanno dei taglioni all'interno della città per spostare un'ambulanza da un punto all'altro per portarla diciamo dalla prima metà del percorso alla seconda metà del percorso l'obiettivo chiaramente è quello di ridurre al minimo il no flow time di una qualsiasi persona e questo lo facciamo fondamentalmente arricchendo le risorse dotandole di ovviamente vabbè questi l'ambulanza VLS ha dei minimum standard questo sicuramente non lo invento io associando a queste delle risorse ALS per arrivare anche con delle risorse avanzate in un tempo molto breve mediamente sul percorso di maratona 41 chilometri disponiamo due automediche ALS diciamo che coprono metà del percorso ciascuno anche questa non è una regola generale ma è una regola abbastanza esperienziale per quanto mi riguarda invece anche qui devo fare una dicotomia profondissima tra i professionisti e gli amatori i professionisti pensate che la corsa più lunga che possa essere sono 6-7 7 chilometri diciamo massimo massimo 10 chilometri non arrivi in salita abbiamo a disposizione due automediche quattro ambulanze bene o male un chilometro e mezzo ogni due chilometri abbiamo sempre coperto i nostri corridori e la difficoltà sta proprio nel capire e leggere la corsa cioè capire dove e come posizionare le ambulanze cioè se io alla fine della Milano Sanremo mi sono tenuto tutte le ambulanze dietro non ho capito niente di come funziona una gara ciclistica perché quelli finiscono tutti in volata quindi ci saranno 50 buoi disperati che prenderanno via Roma a 70 80 all'ora e senza chiedersi potrei potrei anche morire non se lo chiedono cioè quelli vanno vanno proprio in fazzoletti tra uno e l'altro millimetri e quindi io lì devo portare la mia assistenza però una volta che si fanno un po' queste corse diciamo che un po' ho iniziato ad avere una vera idea di come disporre le ambulanze forse dopo dieci anni però più o meno arrivi a capire come mettere le ambulanze cosa invece diversa sono nelle corse amatoriali perché nelle corse amatoriali che tu pur voglia predisporre un sistema sanitario simile allo sbarco in Normandia non avrai mai la capacità di coprire i 40 50 o 70 chilometri in cui ci sono dentro 5.000 persone quindi il modo per dare una risposta pronta immediata è l'abbiamo trovato con la geolocalizzazione dei mezzi e un numero di telefono dedicato quindi sui pettorali è presente un numero di telefono che dove noi a tutti le funzionature li invitiamo a farglielo capire dovete chiamare questo numero che è niente di più più che 112 al 112 dite dove vi trovate a che chilometro siete e non è difficile perché se uno parte per una corsa sul computerino c'è scritto quanti chilometri ha e con la geolocalizzazione abbiamo la possibilità di capire qual è l'ambulanza in zona più vicina a lui e quindi abbiamo delle risposte che nelle ultime due eventi non sono mai andate oltre i 4 minuti e 37 secondi colgo l'occasione colgo l'occasione per condividere un attimo anche il mio di schermo per una cosa molto più banale se volete ma per lanciare nel frattempo che arriva qualche altra domanda il prossimo webinar che sarà il 10 novembre e questa volta ci spostiamo abbiamo affrontato mari, montagne e sport e rientriamo in ospedale e parleremo di emergenze introspedaliere e sarà l'ultimo webinar precongressuale quindi quindi come dire vi aspettate cerco di ho fatto casino di ecco precongressuale che apre le porte poi al congresso di Rimini del 16 17 18 dicembre basta interrompo la condivisione e ci sono c'è una domanda per Cristina o anche Luca insomma sul colpo di calore Cristina vuoi lanciarti va bene grazie per la domanda allora è una domanda molto complessa secondo me come tipo di risposta nel senso che strettamente parlando per definire l'exertional heat stroke la temperatura va misurata per cui gold standard la temperatura interna ma non perché la temperatura esterna non serva cioè il problema è una temperatura esterna che può essere inaccurata ovviamente se io ho come primo come primo livello assistenziale la possibilità di avere un termometro esterno e il termometro esterno misura più di 40 gradi 40 e mezzo io e ho l'alterazione del neurologico prendo come assodato che verosimilmente questo è un exertional heat stroke avendo la necessità di iniziare il raffreddamento precoce inizio il raffreddamento quindi prima cosa non ho la temperatura interna ho un metodo di misurazione esterno e inizio con quello non avessi in assoluto nessun metodo di misura della temperatura anche lì è una cosa probabilistica la vedo meno probabile meno frequente in un evento sportivo in cui c'è un certo grado come dicevano anche gli altri relatori di preparazione perché vorrebbe veramente dire che non ho pensato neanche in maniera diciamo organizzativa a quali sono le condizioni ambientali mi viene più più diciamo facile pensarlo in un ambiente militare in un ambiente appunto di lavoratori che lavorano all'esterno io so che in una condizione in cui ho un ambiente caldo tra virgolette un ambiente ostile e una persona esposta a un'attività fisica diciamo intensa tre cause di alterazione al neurologico sono l'eat stroke l'iponatremia il glucosio vedo quella più probabile e quella che mi sembra la più verosimile ovviamente nel maratoneta che amatoriale che beve 5 litri perché si sente disidratato so che potrebbe essere l'iponatremia nella persona che è estremamente accaldata in questo caso forse il fatto di avere una sudorazione assente e una cute molto calda e un'alterazione del neurologico ci spingono verso una diagnosi presuntiva di exertion or heat stroke comincio il raffreddamento e appena possibile misuro la temperatura grazie Cristina c'è anche un'altra domanda dal pubblico su la affluenza ci chiedono durante un evento con grande affluenza di pubblico o partecipanti quanto sia importante la presenza del PMA per non sovraccaricare i pronto soccorso locali e se si riesce effettivamente a non sovraffollarli attraverso il PMA magari Luca vuole darci una allora sicuramente per quanto riguarda gli eventi di running soprattutto per gli eventi di running competitivo quindi mezza maratona non è maratona la risposta è per me sì perché fondamentalmente due aspetti allora il primo è che deve essere presente un coordinamento che gestisce diciamo le richieste di soccorso un coordinamento locale chiamiamola centrale operativa che valuta caso per caso quindi innanzitutto la patologia tempo dipendente sia che sia correlata all'evento meno probabile ma nel nostro caso per lo meno sia che sia con l'ata pubblico generalmente viene ospedalizzata direttamente che significa dolore toracico con modificazioni per esempio elettrocardiografiche sindrome neurologiche come per esempio lo stroke e politrauma e parlo di politrauma non necessariamente del traumatismo ortopedico singolo di cui invece Fabio è abituato a trattare nelle sue cliniche mobili tutte queste tre condizioni per noi dal campo di gara o dal pubblico vanno direttamente in ospedale invece tutto quello che è patologia specifica della maratona che avvenga sia sul campo sia che avvenga soprattutto perché poi il PMA serve tantissimo anche soprattutto alla finish line di solito il PMA principale viene posizionato in prossimità della finish line è quello di andare a fornire assistenza per esempio reidratazione ai disidratati gestione del crampo muscolare tutte condizioni che poi vengono dimesse dal pronto soccorso incluso il disidratato serio a cui se noi facciamo una gastro abbiamo magari 5, 6, 7 dilattati e che se magari andassi in pronto soccorso dovrebbe rimanere lì 2, 3, 4, 10, 12 ore un po' se vuoi per magari la non chiara interpretazione di chi non è abituato a vedere che sono dilattato sopraelevato piuttosto che una troponina leggermente mossa sub diciamo normale e che invece possono essere tutti dimessi la grande maggioranza dimessi dal PMA direttamente diciamo che nella mia esperienza la cosa migliore è avere una stretta relazione se non con gli ospedali quantomeno con il servizio di emergenza per l'ospedaliero per andare e avere dei criteri di triage su chi portare in ospedale direttamente chi portare al PMA e chi dimettere dal PMA e chi trasferire in secondario dal PMA all'ospedale perfetto chiarissimo grazie Luca io avrei una domanda per Vincenzo Castelli per la riguardo la legislazione e mi chiedevo una curiosità soprattutto mi chiedevo qual è lo sport visto tutta la panoramica dei diversi diciamo delle diverse attività sportive che abbiamo trattato oggi dal ciclismo ai circuiti invece in pista quindi il motociclismo la maratona mi chiedevo qual è tra tutti lo sport che è più come dire soggetto a bias meno protetto meno protetto dal punto di vista della legislazione cioè dove sappiamo che ci sono più buchi legislativi o che comunque c'è una carenza maggiore ma in realtà i buchi legislativi non ce ne sono perché la legge parla chiaro il problema sono evidentemente gli sport in cui non c'è una itineranti come li chiamiamo noi quindi il ciclismo immaginiamo lo sci di di fondo immaginiamo anche lo stesso canottaggio quindi le applicazioni della gestione dell'emergenza al resto cardio in situazioni di questo genere e sia Luca che Cristina ce l'hanno ben illustrati lo stesso Fabio ci ha descritto la complessità di una gestione di uno sport itinerante quindi credo che il problema sia insito nella peculiarità dello sport è chiaro un incontro di box o un incontro di karate in un palazzetto o una partita di volley eccetera si gestisce sicuramente in maniera più semplice da questo punto di vista e quindi con una cardioprotezione sicuramente sicuramente migliore ecco questo credo che sia non tanto il vuoto legislativo quanto l'adattamento della legge alle situazioni diciamo così di gestione dell'evento sportivo quindi va secondo me discussa con le varie federazioni credo che questo sia stato fatto perché chiaramente quello che ci ha raccontato Fabio Luca è non altro che la discesa della legge nella specificità dello sport poi la maratona poi la la corsa ciclistica e via dicendo io invece volevo fare una domanda se è possibile agli amici colleghi riguardante se a timing del 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 soccorso del soccorso diciamo così di emergenza ci sono differenze di di sopravvivenza negli sport di endurance rispetto agli sport che non sono di endurance e mi spiego ancora meglio cioè quando noi parliamo di sport di endurance parliamo di uno sport in cui c'è un'attività metabolica di quell'organismo portata all'ennesima potenza chiaramente se avviene un arresto cardio in quella situazione c'è un grosso debito energetico delle cellule che si trovano sia in difficoltà per il tipo di metabolismo che viene attuato in quel momento ma anche ovviamente a questo si aggiunge anche l'arresto cardio io non ho trovato sinceramente nulla perché chiaramente immagino che le variabili sono sono diverse se Ericsson fosse stato soccorso con un ridardo di 10 minuti probabilmente non ce l'avrebbe fatta pur non avendo in quel momento stando a fare uno sport con delle richieste metaboliche enormi quali potrebbero essere quelle di una gara endurance ecco volevo chiedere a voi se avete qualche qualche notizia al riguardo e purtroppo io non ho nulla al riguardo stavo anche facendo mentre parliamo una rapida ricerca su PubMed non so se esiste qualcosa di pubblicato non ho trovo nulla è parecchio diciamo letteratura sul fatto che chiaramente il tempo il time e il pre-hospital time sono correlati sia nel mondo dell'arresto che nel mondo del trauma però questa separazione quindi in effetti sul mondo dove vi è una richiesta metabolica molto elevata e se sia peggio diciamo di uno sport non di endurance è un'ipotesi interessante che però statisticamente o epidemiologicamente non penso nessuno abbia mai testato ok se vogliamo portare due casi personali un atleta un atleta di rowing di canottaggio e un altro che faceva maratone sono state le persone che più mi hanno stupito di fronte a due politraumi gravi che abbiamo gestito poi in terapia intensiva questi questo noi ce lo siamo chiesti come come hanno potuto sopravvivere al al trauma che hanno avuto soprattutto le complicanze complicanze che hanno avuto nella parte successiva del loro ricovero questo ce lo siamo spiegato un po' sul fatto che erano abituati a vivere in condizioni di allenamento che portava il loro corpo sempre in situazioni di stress e simulavano proprio uno stress legato agli aumenti di acido lattico che è tipico dell'allenamento quindi cerchi di cerchi di portare la tua soglia aerobica e il tuo VO2 max più in alto possibile negli sport di endurance questo secondo me gli ha permesso di sopravvivere a delle situazioni di acidosi metabolica che siano che erano arrivate a questi pazienti nella terapia intensiva e non morire come sarebbe come ci aspettavamo invece va bene ringrazio vi ringrazio tutti se non ci sono altre domande dal pubblico non mi pare stavo controllando un ultimo check e no e quindi beh vi ringrazio veramente tutti Aurora che ha moderato insieme a me questo webinar Luca Cristina Fabio Vincenzo e Lorenzo non l'ho detto prima ma l'avrete notato dalla scaletta che Stefano Larker non è potuto intervenire perché purtroppo ha avuto un impegno imprevisto di lavoro quindi abbiamo saltato un pezzetto ma credo che abbiamo riempito con altri spunti e vi ringrazio e vi ricordo di nuovo i prossimi appuntamenti IRC no non sono questi con il webinar il 10 novembre sull'emergenza intraospedaliere e poi il congresso a Rimini e basta vi saluto grazie a tutti davvero grazie grazie buona serata buona serata buona serata